Renault porta al debutto a questo salone di Parigi 2016 una Comset Car, si chiama Tresor, è una vettura sportivissima però al 100% elettrica. L'avevamo vista nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, in alcuni scatti rubati e in un video di Renault che anticipava appunto l'arrivo di quest'auto. Sprizza tecnologia da tutti i pori ma anche sportività perché sul frontale vediamo ad esempio delle aggressive prese d'aria che convogliano il flusso per raffreddare i freini anteriori come sulle vetture di Formula 1 ma da tutti i punti di vista, sia dalla carrozzeria, gli interni, tutto quanto della vettura sprizza veramente tecnologia e rappresenta dal punto di vista del design il futuro della casa della Losanga, anticipa quelli che saranno i temi che rivedremo presto su altri modelli. Grazie.